Ma diciamo che nel 2003 ero a San Siro, ovviamente non ho bellissimi ricordi della tifosa interista, però diciamo che pensare che vent'anni fa ero a vederla e domani ho la possibilità di giocarlo è veramente un'emozione incredibile. Ma penso che affrontare questo tipo di partite ci vogliono soprattutto test e cuore e pensare una partita per volta perché se vai troppo in là con i pensieri rischi di lasciare passata qualcosa.